Hanno preso il via i lavori alla rete fognaria in via Biaggio Cozzolino a San Gennaro Vesuviano nell'ambito di una vasta azione per il potenziamento del servizio fognario depurativo che sta interessando numerosi comuni del territorio, opere frutto della sinergia tra Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania. L'inaugurazione del cantiere è avvenuta alla presenza del sindaco Antonio Russo, del coordinatore del distretto sarnese vesuviano dell'ente idrico campano Raffaele Coppola e del responsabile investment program and service di Gori Andrea Palumba. Io non posso che essere felice per questo particolare momento in cui si dà inizio a questa attività su questo territorio sancennarese, un ringraziamento particolare alla Gori, all'ente idrico campano per la realizzazione di questo grosso impianto fognario che darà possibilità di defluire delle acque su questo territorio dove frequentemente avvenivano precedentemente degli allagamenti. Oggi tagliavo un nastro importante, ogni volta che c'è l'inaugurazione che si taglia un nastro un messaggio di speranza e di serietà per i territori che vengono coinvolto, ma oggi soprattutto vogliamo testimoniare un grande lavoro che parte da lontano, che è un lavoro di grande progetto e di grande impegno verso un territorio, ma soprattutto vogliamo testimoniare un'attenzione fortissima verso questa terra che forse nel passato è stata un po' non valorizzata come meritava, ma che oggi diventa protagonista all'interno del nostro distretto, diventa protagonista all'interno della provincia di Napoli e protagonista all'interno della regione Campania. Nel Comune di San Gennaro presentiamo un importante intervento sulla via Cozzolino, un intervento per l'estensione della rete Fognara sull'importante asse viario del Comune di San Gennaro, un intervento che si incassa nell'ambito degli interventi di energia per il Sarno in sinergia con la regione Campania e l'ente idrico campano. L'intervento di oggi pone le basi per poter avviare i lavori del progetto di Ottaviano che consentiranno, tra le altre cose, di eliminare 13 scarichi in ambiente nel Comune di Ottaviano e di portare la rete Fognara in altre due importanti arterie cittadine del Comune di San Gennaro che è Via Mandrile e Via Musillo.